Gigi Faleschini è di Pontebba. Il suo laboratorio è accanto alla chiesa dove vi consiglio di entrare perché c'è un altare ligno di fattura squisita, uno dei più belli in assoluto al mondo e merita veramente una sosta anche approfondita e lunga. Gigi Faleschini produce confetture, marmellate, creme non avesse fatto questa professione sarebbe un cuoco di grande innovazione perché ha grande capacità di mettere insieme profumi e sapori dei suoi prodotti che raccoglie e produce in 5 ettari di cultura biologica nella zona di Malborghetto. Fu uno dei primi produttori in Friuli di biologico ma lui dice che la qualità di quello che si fa sta nella propria mente, sta nella filosofia con cui si porta avanti il progetto. Dicevo della sua creatività, la sua capacità di mettere insieme diversi prodotti per fare delle salse che lui propone in particolare per abbinare i formaggi di varia stagionatura. Il suo grande amore per quanto riguarda i prodotti è la mela. Lui con la mela ha creato diverse declinazioni straordinarie l'ultima che ho assaggiato è mela e lampone che proprio riguarda il periodo estivo ma poi è andato oltre, è andato avanti per esempio lavorando proponendo la pera al peperoncino col periodo di Carnia, proponendo una serie di prodotti con la pera anche con la senape, si chiama pera senapata, anche questa con i formaggi un po' strutturate, può arrivare fino al formaggio di Frant e va, ricordo, accompagnato con il ramandolo. Ultimamente lui è anche presidente del presidio Slow Food del radic di Monde e un giorno si è chiesto, ero presente nel suo laboratorio quando faceva queste prove, si è chiesto ma perché devo buttare via le foglie che io scarto e sono buone e cosa ha fatto? Le ha cucinate, le ha preparate e ne ha ottenuto una specie di pesto e ha fatto il pesto col radic di Monde che può essere messo su delle tartine, sui costini di pane, può essere messo in un minestrone di verdure e quindi ha una capacità di usarla in cucina veramente unica. Questo è Gigi Faleschini da Pontebba.